Il mio figlio doveva fare una coperta grande, allora lei non aveva tempo per farlo. Allora disse, ma insegna tu, così la fai tu. Ah, sta andando a lavorare. Eh sì, dice, ma io non so che farci la pagina di me un genito a me. Allora disse, no, vabbè, piano piano mi sono insegnato. Adesso non possiamo fare più niente e ci mettiamo a fare il genetto, perché quando ho perso mio marito mi sono messa a questo lavoro. E voglio, quando l'ho fatta, ora però si hanno stancato le braccia, fare sempre… Eh sì. E gli occhi più che altro. Anche gli occhi, ma ora è sempre a fare così, tanto a dormire che non ci può fare mangiù. tanto sbagliare, perché non ci sono rudi, non ci sono rudi, non ci sono rudi di legge a fare.